Sì, è assolutamente una bellissima iniziativa insieme con l'associazione degli albitri della sezione di Crotone. Abbiamo voluto oggi onorare la nostra squadra femminile insieme con loro alla giornata della festa della donna. Bella iniziativa, vedo le ragazzine molto scatenate, vogliose di mettersi in mostra. Speriamo che da qui possa nascere anche un futuro, una squadra importante anche nel settore femminile nella città di Crotone. Da diversi anni ormai sono diventate anche in Italia una realtà importante, anche la nazionale. Sono squadre importanti che Miletronica è nella massima serie, pertanto è uno sport che si sta avvicinando molto anche alle donne. Ripeto, la speranza è che a Crotone possa nascere qualche campionessa nel mondo del calcio. La squadra è molto concentrata, è una trasferta molto difficile Salerno, sia per la squadra che andiamo a incontrare, anche per l'ambiente, sempre molto caldo. Però di questi ragazzi ne sono consapevoli. Andremo lì a fare la nostra partita con l'esperanza di fare il risultato pieno per uscire prima possibile da questa classifica che, a dire il vero, secondo me non è meritata. Però ci troviamo immischiati nella lotta per la salvezza, dobbiamo cercare di uscire nel prima possibile. Sì, assolutamente sì, i ragazzi lo sanno, l'allenatore pure. Saranno dieci finali, a cominciare la domenica sera. Da lì speriamo di uscirne il prima possibile da questa situazione perché è paradossale che il Crotone con questa squadra si possa trovare a lottare nei bassi fondi della classifica. Sì, sono sempre iniziative che ci danno l'opportunità di parlare sempre di regole in questa società che spesso sono disattese o comunque non rispettate. Insegnare ai ragazzi che bisogna comportarsi sempre nel modo giusto, civile, rispettare soprattutto gli altri è importantissimo. L'occasione ovviamente per noi è ghiotta. Lo dimostra il lavoro che stiamo facendo sui giovani. Abbiamo erano proprio delle mosche bianche. Adesso c'è una bella rappresentanza, almeno una decina di ragazze. Quindi stiamo lavorando su queste e tenendole in considerazione come gli uomini. Perché per esempio abbiamo la nostra Pittella, la ragazzina bionda che scorazza qui nel campo che ha già fatto le sordi in prima categoria. Quindi due anni di tessera è così come stiamo facendo con gli altri giovani. Quindi opportunità importante e poi il presidente Gianni è sempre sensibile a queste cose. Quindi c'è un grande feeling tra noi, grande rispetto e soprattutto opportunità di intenti. Anche lui è su questa stessa idea di dare ai giovani le opportunità che meritano.